8 marzo 2018. Firenze, 74esimo anniversario della deportazione. L'8 marzo si ricorda anche l'anniversario del patto di fratellanza tra le città di Firenze e Mauthausen. Oggi la parola memoria assume il peso che le spetta. Oggi il suo significato supera il valore di semplice definizione per diventare valore imprescindibile. Questo il senso della cerimonia che si è tenuta l'8 marzo per commemorare il 74esimo anniversario della deportazione nei campi di sterminio nazisti e il nono anniversario del patto di fratellanza tra le città di Firenze e Mauthausen. Monica Barni, vicepresidente della regione toscana. È importantissimo essere presenti oggi perché questa è una giornata in cui si commemora una deportazione di un migliaio di cittadini, un migliaio di fraoperai, cittadini, professionisti che si trovavano a manifestare in questi giorni qua contro la guerra. È importante esserci ma è importante che la memoria venga coltivata continuamente perché è solo attraverso la memoria che si può progettare il nostro futuro. Thomas Pakenhoff, sindaco di Mauthausen. Per me è molto importante una giornata come questa proprio perché sono il sindaco di Mauthausen. Non dobbiamo mai dimenticare quello che accadde allora e cioè che molti cittadini, toscani, fiorentini, sono stati deportati a Mauthausen, la mia città, e in quel lager hanno subito atroci torture e la moggeranza è stata assassinata. Questo è stata una gravissima ingiustizia, un crimine che non va mai dimenticato. La testimonianza di Moreno Cipriani a Ned Firenze, figlio del deportato Oscar Cipriani, deceduto a Ebensin, sottocampo di Mauthausen, è densa di emozioni, ma allo stesso tempo ferma e decisa nel sottolineare quanto sia importante raccontare queste vicende. Per non dimenticare che l'8 marzo 1944 alcune centinaia di persone, ingiustamente e arbitrariamente, vennero costrette a partire per un viaggio senza ritorno su un treno composto da carri bestiame sigillati dal binario 6 della stazione di Firenze e Santa Maria Novella. Moreno Cipriani a Ned Firenze. E oggi ci troviamo qui a fare questo ricordo, non a commemorare perché certe cose non si commemorano, si ricordano, quello sì, ricordandoli proprio in questo momento particolare in cui c'è un risveglio forte di quelle che sono le forme fasciste, le forme di violenza, le forme di non tolleranza. E questo veramente provoca ancora maggiormente più distacco. Oltre al gonfalone della città metropolitana di Firenze, a quelli dei comuni limitrofi e alle numerose bandiere di enti ed associazioni, era ben visibile lo striscione recante della significativa scritta Firenze-Mauthausen, città gemellate, la memoria ha un futuro di pace. Al termine della celebrazione una corona di fiori è stata deposta al binario 6 della stazione Santa Maria Novella che ha visto partire i deportati 74 anni fa.